Vecchio di me, vecchio di me, vecchio di me, avete preso la banana anche ieri? Belli e freschi, belli e freschi, le ho comprate e dico non si sa mai, che magari le prendiamo qualcuna anche noi stasera di banana, però questa, questa, questa banana, come vedete se c'è scritto la sigla Candreva, questa bananina la do anche ai bilanisti dai su, poverini, dai non avete preso il gol ma siamo lì eh, non posso parlare tanto forte perché sennò mia mamma mi fa nero, no? Comunque, banana per il vecchio, tutta bella bella, bella macolata anche che ti va bene su per quel posticcino lì, è una bananina per il piolino. Volevo aspettare questa sera per percularvi, no? Perché dico se magari la prendo nel deretà non anch'io con la Lazio, no? Però siccome noi coi 15 punti saremo già, no? Se non ce li tornano non c'è nessun problema perché tanto vi doppiamo, sapete cosa vuol dire doppiare, andare in doppietta? Siamo già sopra, vi passiamo di nuovo, piano piano arriviamo. Peccato che abbiamo la Lazio adesso che è tosta, preferivo avere una partita un po' più tranquilla, però va ben così dai, per me stasera pareggiamo, non vinciamo, scrivetevelo. Come lo chiamavate il piccolo Guardiola? Quello lì, il piccolo Guardiola? Che allenatori di merda, che allenatori, uno più scarso dell'altro, uno che in una vita ha vinto uno scudetto solo, mandato via da tutte le altre società d'Italia, miracolato perché quello lì è stato miracolato. Se non veniva Ibrahimovic non vincevate neanche quello scudettino. Quell'altro lì, il re delle supercoppe, perché più di là quello lì non va, scarso, e meno male che non è venuto la Juve, perché c'erano, dopo il primo Allegri c'era anche il nome suo in mezzo, anche il nome suo, e lo volevo io, ero un giugno, pensate che scarso che è quell'allenatore lì, che scarso. Ha avuto anche il culo di ereditare una squadra fatta, fatta e perfetta da Conte, perché se no rompete le palle ad Allegri, a me non piace Allegri, perché lo sapete, ve lo dico anch'io, che do specialmente dopo la finale di Coppa Italia, come l'ha persa l'altro anno, l'ho mollato anch'io Allegri, però piuttosto di prendermi qui due lì, uno di quei due lì, ma mi tengo Allegri tutta la vita ragazzi, tutta la vita Allegri, perché quelli lì sono scarsi, sono scarsi, guardate, piuttosto di prendermi quei due allenatori lì, mi prendo sicuramente un italiano, o un De Zerbe, perché quelli lì sono scarsi ragazzi, quelli non dovrebbero allenare grandi squadre, una grande squadra, quell'altra è una succursale del Milan, quelli non dovrebbero allenare squadre di un certo livello, perché sono allenatori scarsi, ma voi continuate a difendere uno il piccolo Guardiola, quell'altro Piolino non si tocca, sì adesso dopo il Champions League, sì adesso fate la vostra figura, ma ricordatevi una cosa che potete fare una figura bella in Champions League finché volete, ma se non la vincete potete andare avanti fin quanto cazzo volete, se non la vincete, a me sinceramente di passare i turni, di passare gli ottavi e perdere la finale, io preferisco neanche non giocarla la Champions League, preferisco giocarla se devo vincerla, se no che vada fuori ai gironi, agli ottavi e quarti, è uguale, comunque adesso vi impegnerete perché adesso comincia il bello, adesso avete già cominciato bene tutti e due, avete già cominciato bene, super bene, specialmente uno, e adesso vediamo il continuo, vediamo stasera noi cosa facciamo, un bel spruzzatino di profumino, non ho di me, non ho di me, ti ho visto incazzato ieri, non ho di me, non ho di me, ti ho visto incazzato ieri, è la bananina, candrevino, candrevino, la Pasqua vi rimane qui, no, la Pasqua, la Pasqua, e io godo, e io godo, perché come dice il mio amico milanese, gli siete dei maledetti, perché non importa che squadra ti fiate, l'importante è di Aralinta sempre, perché siete dei maledetti, e ha ragione a dire questo. Ragazzi, primo video di giornata per sfanculare, non riuscivo ad aspettare, volevo farlo ieri sera, però era tardi, a me rompe le palle fare video al pomeriggio, almeno che non sia una cosa eclatante, dopo questa mattina mi alzo, dico, primo video di giornata, sfanculiamo, non riesco, riuscivo a aspettare fin questa sera, dopo la partita con la Lazio, dico, ma bo, che vada come vada, tanto noi, il nostro, in campionato, l'abbiamo già fatto, purtroppo ci han penalizzato, qui maledetti, altri maledetti, però noi, i nostri campionatori, l'abbiamo già fatto, il Napoli purtroppo è quello che è quest'anno, perché gli va anche tutto bene, ma merita lo scudetto, e attenzione una cosa, squadra di Milano, specialmente una, se per caso ci tornano i 15 punti, Napoli, Juventus, Lazio, c'è ancora un posto per la quarta, io non metto la mano sul fuoco, ma per me la prescrittese rimane fuori, perché Mourinho è un altro maledetto che è furbo, quello lì, e Gasperini è sempre Gasperini, perché non c'hanno le coppe, non c'hanno le coppe, stanno facendo un campionato un po' di merda degli ade, però attenzione, una delle due milanesi, io spero quella lì, rimarrà fuori, rimarrà fuori. Con questo io vi saluto a tutti, ciao a tutti belli e brutti, buona vigilia di Pasqua a tutti quanti, fratelli di sangue e non, a parte certi, qui i soliti fomentatori, e iscrivetevi al canale sempre, iscrivetevi anche al canale della gattina che vi lascio qui sotto il link, perché vi ricordo che un iscritto al giorno toglie il medico di torno. Buona mattina, buona colazione, buon caffè, buona Juventus e buona vigilia di Pasqua ragazzi. Ci vediamo stasera, vediamo se dopo la partita, speriamo di non tirare giù quattro porconi con acciughina.